dunque siamo arrivati alla 34esima lezione non fatevi illudere da chi vi dice che latino si impara in 5 lezioni o in mezz'ora quello non è latino allora proviamo prima a tradurre le frasette dal latino dove per la prima volta troviamo dei verbi nella forma passiva divitum romanorum pueri domi a pedagogo erudia bantur ceteri contra in ludo a comuni magistro dunque non cambia niente nel passivo abbiamo anche nel passivo da cercare il soggetto e qui come vedete con erudia bantur più che pueri come soggetto non c'è domi mi pare che sia chiaro se è stato studiato domi ero stato in luogo di domus vuol dire a casa a pedagogo finalmente abbiamo con un verbo passivo questo è la sicurezza questo è un complemento da gente cioè è il complemento che fa l'azione nella frase passiva subita dal soggetto il soggetto è puer quindi i figli bambini i ragazzi dei ricchi romani erudia bantur erano istruiti a casa da un pedagogo ceteri contra in ludo a comuni magistro ceteri vuol dire tutti gli altri non traducetelo come rimanenti e rimanenti sta malissimo contra non è una preposizione impropria perché non regge l'accusativo e un avverbo vuol dire al contrario in ludo nella scuola da chi? da un maestro comune vedete di nuovo il complemento da gente paucir reperiuntur qui justitia semper colluerint dunque reperio vuol dire trovare pochi sono trovati che oppure sono trovati pochi che ricordatevi che nella forma passiva tante volte capita che sia necessario mettere il soggetto dopo questo detto tra parentesi qui infatti sono trovati pochi che colluerint abbiano sempre coltivato la giustizia questo è un perfetto congiuntivo potrebbe anche essere un futuro anteriore ma non è il caso non funziona qui un futuro anteriore vellus aureum incolchite abimmani dracone custodievator sediaso mede medicamento ei somnum paravit acque vellus rapui allora custodievator è di nuovo ereris tur termina in tur siamo sicuri terza singolare era custodito vediamo che cosa era custodito un vello d'oro aureum aureum è il modo per tradurre anche un complemento di materia con l'aggettivo corrispondente un vello d'oro era custodito nella colchide da chi? da un grande drago da un grande drago e poi inizia una seconda proposizione dove il verbo non è più al in forma passiva e poi c'è una terza proposizione rapuit vedete che sono tutte coordinate perché abbiamo congiunzioni coordinanti andate a vedere se non sapete queste cose le congiunzioni coordinanti quali sono nella mia in quel lavoro che ho fatto di analisi sed congiunzione coordinante atque congiunzione coordinante quindi non abbiamo subordinate qui ma Iasone perché è un nominativo preparò qui forse serve meglio procurò procurò il sonno a lui procurò il sonno a lui cioè al dragone per mezzo medicamento un complemento di strumento per mezzo di una pozione di medea e rapuit velus rapì e portò rapì il vello e sottrasse il vello velus è un complemento oggetto perché è neutro no quindi essendo neutro fa us sia il nominativo che l'accusativo antiquorum templorum porticus l'urimis columnis ex marmole fucevantur fucevantur vuol dire sostener letteralmente erano sostenuti andiamo a vedere dov'è il soggetto qui non c'è ex marmole è chiaramente un complemento di materie plurimis columnis neanche antiquorum templorum neanche porticus porticus è un nominativo plurale perché fa parte della quarta declinazione i portici degli antichi templi erano sostenute da o rinforzati da moltissime guardate che plurimis è un superlativo assoluto irregolare che non corrisponde in italiano perché in italiano non abbiamo plurimo come superlativo ma moltissimo per mezzo di colonne moltissime colonne ex marmole di marmo complemento di materie mortuoro un cadavere abegipti sunguenti satquodoribus congie bantur ac serva bantur di nuovo abbiamo un passivo antur un tur poi c'è la b la b ci dice che è un imperfetto un tur ci dice che è la terza persona plurale erano coperti conghio vuol dire anche condire ma direi che nel significato qui non va proprio bene erano coperti erano conservati due verbi quindi dove è il soggetto più che cadavere che è un neutro della seconda della terza declinazione plurale i cadaveri dei morti erano coperti e conservati da chi ricordiamoci sempre il complemento d'agente o di causa efficiente dagli egiziani con unguenti e odori e profumi nutritur vento vento restinguitur ignis vedete che qui non abbiamo soggetto se non arrivare alla fine ignis che è un nominativo può anche essere un genitivo ma a noi interessa il nominativo il fuoco è alimentato nutritur tur tur di nuovo terza persona singolare passiva è alimentato dal vento vento causa efficiente restinguitur è spento è estinto vento dal vento di nuovo causa efficiente patrum nostrorum monumenta maxima sempre reverenzia colentur et custodientur anobis dunque colo colis colui cultum colere è importante stabilire che coniugazione è perché termina abbiamo esset emus etisent ent ent poi è passivo va bene però con uscita em etisent vuol dire che se è della prima coniugazione siamo al congiuntivo presente se siamo nella seconda coniugazione siamo nell'indicativo presente se è la terza coniugazione siamo nel futuro quindi questi due che sono uno della terza lato della quarta sono due futuri dov'è il soggetto monumenta i monumenti dei nostri padri saranno venerati e custoditi da noi complemento da gente con sempre con la più grande reverenza con la più grande devozione vedete che sono due ablativi e direi che è un complemento di modo tradotto con l'ablativo semplice avrebbe potuto essere tradotto con massima cum reverenzia ma qui si è preferito l'ablativo semplice acqua acqua assindetto non per polisindetto principale coordinata la principale tutte e due enunciative però e no 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 ho sbagliato tutto scusate 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 qui c'è una relativa non l'ho vista dunque ripeto da capo acqua multa multa malalennievantur questa è la prima frase l'altra è quea bilio fonte aurievato allora come prima abbiamo detto aurievato terza singolare questa terza plurale però questa è una relativa non sono due coordinate quindi la principale è acqua multa malalennievantur molti mali sono curati dall'acqua ecco questa è la principale che aurievatur che era raccolta da quella fonte che sarebbe meglio forse no che era raccolta da quella fonte notate che abillo fonte non è un complemento di causa efficiente perché a causa efficiente non si traduce con la OAB è un complemento di moto dal luogo che è attinta da quella fonte o origine direi di no l'ennievantur è un imperfetto allora molti mali erano curati lo ripeto con l'acqua che era raccolta da quella fonte quindi cancellate la prima parte che ho sbagliato probe abillis philosophis quistoici di cuntur fortitudo definitur afferma teni mea messe virtute pro equitate pugnante probe proprio proprio l'avverbio vuol dire giustamente e poi abbiamo la relativa quistoici di cuntur e inserita naturalmente nella principale quella che la regge abillis philosophis fortitudo definitur la fortezza è definita giustamente da quei filosofi che di cuntur sono detti stoici vediamo com'è definita affirmant enim affermano infatti e poi abbiamo un'infinitiva eam esse pugnante eam esse virtute pro pugnante pro equitate notate sempre di mettere tutto assieme sono tutti accusativi questi eam virtute pugnante siamo nell'infinitiva è un soggetto anche perché col verbo essere non ci sarebbe complemento oggetto affermano infatti che quella è virtute la virtù abbiamo il participio presente combattente non sta molto bene lo trasformiamo in relativa quella virtù che combatte per la giustizia questa è dall'italiano in latino è tradotta dopo per scritto andiamo all'altra si corruit tectum falciatur no fulciatur travibus se il tetto corruit sarebbe dire è pericolante falciatur è un esortativo è un passivo è la terza persona singolare sia sorretto da travi travibus causa efficiente potrebbe anche essere sia sorretto con travi uno strumento in ogni modo io direi là dove c'è il passivo di dare sempre la precedenza alla causa efficiente all'agente memoria digna assunta è che jesu verba pulsate etta peri turvobis dunque notate queste parole di jesu ricordatevi che questo è un termine che non esce fuori dalle regole latine quindi non appartiene a nessuna declinazione queste parole di jesu però è semplice si capisce che è un genitivo una specificazione perché sono inserite dentro non ne vedo queste parole queste parole di jesu sono degne di ricordo ricordatevi che digna digna regge l'ablativo e memoria infatti è il nome in ablativo letto da digna pulsate l'operativo bussate e aperietum turv etur aperietur m7 musetisent quarta declinazione e quindi è un futuro passivo sarà aperto a voi aput romano sadurecentes nobili generati atena smittevanto utta clarissimis magistris erudirentur qui abbiamo la nostra preposizione impropria con la sua regenza presso i giovani adolescenti e i giovani romani presso i giovani romani andiamo dunque e qui vedete che si casca nell'errore perché adolescentes non è cor romanos è proprio vero che andare a cercare il verbo è meglio mit tevantur cominciamo dal verbo mito mitis misi misun viter vuol dire inviare mit tevantur però non avremmo il soggetto perché nati oltretutto mette di nobile famiglia e nobili genere nati insomma non è presso i giovani adolescenti ma presso i romani adolescente è il soggetto è vero che ci potrebbe essere anche nati come soggetto i nati da nobile famiglia mit tevantur erano mandati ad atene presso i giovani romani però non sta per niente bene è meglio considerare adolescente il soggetto qui forse se ci fosse stata una virgola avremmo risolto il problema presso i romani i giovani nati nobili genere da nobile famiglia nobili genere un complemento di origine erano mandati a tena a scomplemento di moto a luogo nome di città di piccola isola vuole solo l'accusativo ut è finale ut e rudia rentur per essere istruiti a clarissimis magistris da maestri famosissimi oppure meglio superlativo relativo dai più famosi maestri quando vi trovate il superlativo assoluto in latino provate a vedere se magari sta meglio il superlativo relativo i più famosi maestri l'articolo i si trova con il da dai più famosi maestri quindi è un superlativo relativo e sappiamo che in latino sia esso un superlativo assoluto sia esso un superlativo relativo è sempre clarissimus però non si può tradurre da latino italiano sempre famosissimo issimo qui sta meglio il superlativo relativo cibi sale condiuntur ut sapient utur terza plurale condiuntur sono conditi i cibi sono conditi dal sale ut sapient affinché abbiano sapore sapio vuol dire aver sapore menia opidorum ostium sepia romanis magna vi oppugna bantur adque arvietibus fergie bantur dunque oppugna bantur vuol dire prendere d'assalto erano presi d'assalto in nuovo terza plurale dov'è il soggetto beh menia le mura delle città dei nemici spesso erano presi d'assalto con grande violenza da chi dai romani complemento da gente mi ricordo raccomando vis robor se questo è l'ablativo di vi e sempre le mura erano abbattute arvietibus con le arvieti con le testugini se non ci fosse l'aria air non ci sarebbe esser metto il non perché in latino due negazioni non possono starci ma in italiano si e starebbe male non metterci la negazione non ci sarebbe nessuno nessun suono ah no no prima c'è udirei non sarebbe udito nessun suono e non ci sarebbe il fuoco ce ne sono due di verbi essere qui a valore di predicato verbale vuol dire esserci esservi qui invece di nuovo è una forma passiva se qualcuno ha già visto la mia analisi sappiate che qui ci troviamo in un periodo ipotetico un periodo ipotetico della irrealtà dove la protesi essi ha er non esset e la protesi nullus sono saudi retur ci sono due apotesi che sono una proposizione principale più una coordinata e regge e regono tutte e due questa subordinata di primo grado che è condizionale va bene libri sibillini qui massima condiligenza romi capitolo custodio e vantur difficillimis temporibus consul e vantur abbiamo una relativa in mezzo come vedete sempre questa relativa ma anche in infinitiva fa questo giochetto di incunearsi dentro la reggente i libri civillini consul e vantur erano consultati temporibus difficilissimis nei tempi molto difficili ma anche qui starebbe bene in un superlativo relativo nei tempi più difficili i libri sibillini che custodio e vantur di nuovo una passiva erano custoditi massima condiligenza quella più grande diligenza perché massimo superlativo a Roma genitivo locativo nel Campidoglio sepe dulcissimis cantibus e zonis bel acernimi animi dolores lenuntur lenuntur è di nuovo un passivo vuol dire lenire vuol dire sollevare poi abbiamo acernimi animi e dolores come si fa? perché qui abbiamo due nomi due sostantivi quindi uno di due sostantivi è il soggetto io direi i dolori e aceri di animi invece un complemento di specificazione dell'animo più duro e vel attenzione al vel che è un rafforzativo del superlativo dell'animo anche più duro anche dell'animo più duro lenuntur sono consolati sono sollevati spesso da che cosa complemento di causa efficiente dai canti dolcissimi e dai suoni o dalle musiche dalle musiche e dai canti più dolci o dolcissimi umanum est vinci ac molliri puerorum feminarum precibus umanum est è umano umano al neutro perché c'è cosa sottintesa vuol dire è cosa umana vinci e molliri sono due infiniti presenti passivi essere vinti ed essere toccati da che cosa causa efficiente dalle preghiere dei fanciulli e dalle donne vere arbores pulcherimis floribus vestiuntur autunno optimis pomis vestiunto di nuovo terza plurale sono rivestiti gli alberi gli alberi sono rivestiti da che cosa da fiori bellissimi quando vere in primavera ablativo autunno complemento di tempo determinato come vere in autunno di nuovo c'è vestiuntur sottinteso sono rivestiti di frutti ottimi questo è dall'italiano che la ritroveremo sotto la potete trovare poi sotto vediamo l'ultima dal latino cesare pompeium a me ha familiarità di disiumsi ex scripsi cicerone attenzione di non confondere mai le proposizioni che sono dentro le virgole e quelle che sono fuori cicerone scrisse queste cose eh due punti aperte le virgolette cesare non c'è dubbio soggetto cesare è un comparativo neutro perché termina in use è il comparativo di facilis facile ed è neutro perché c'è sottinteso cosa è cosa più facile o semplicemente è più facile liberare la patria dal tiranno anche questo è un complemento di allontanamento e separazione che l'animo dalle passioni anche questo è un complemento di allontanamento e separazione Clelia obses por senne data cum nocte a castris evasisset e tiberi flumem tranavisset admirazione regis movit qui Roma obsidione liberavit allora Clelia non c'è dubbio che è un soggetto obses data come ostaggio a por sen data come ostaggio in ostaggio un complemento predicativo del soggetto cum evasisset essendo fuggita di notte dall'accampamento cum evasisset cum è il congiuntivo e di nuovo cum tranavisset non c'è il cum ma il cum vale per tutti e due ed avendo passato il fiume Tevere movit cosa fece mosse l'ammirazione toccò l'ammirazione del re che liberò Roma dà l'assedio di nuovo obsidione un complemento di arrottanamento separazione divisione veturie vetturie coriolani matri et volumni usori que dabo pugnazione patrie coriolanum removerant senatus censuitut in via viri cederent attenzione qui che non si può iniziare con veturia per carità si può iniziare se uno ha capito ma veturia non è un soggetto è un dativo infatti batri madre di Coriolano et usori di nuovo in dativo no? quindi al limite possiamo provare con una A essendo un dativo A veturia madre di Coriolano e alla moglie volumnia poi c'è una relativa que removerant che avevano mosso rimosso chi? Coriolano il figlio e il marito dall'assedio della patria oppugnazione e di nuovo un complemento di allontanamento di visione eccetera il senato stabilì che cosa stabilì? ut non è ut un finale non si dice il senato stabilì affinché a questo proposito dovete andare a vedere l'ut al congiuntivo anzi per la prossima lezione ho introdotto anche la consecutiva quindi vi conviene andare a vedere la mia lezione di ut più congiuntivo e ut più congiuntivo può anche introdurre semplicemente un'esplicativa una dichiarativa censuit ut il senato stabilì che soggetto i uomini lungo la via cederent cedessero dice qui il passo quindi vedete che cosa vedete che quelle vetturi e coriolani matri e volumi usori fa parte di questa finale messi all'inizio proprio per mettere in evidenza i due personaggi quindi il soggetto è semplicemente il soggetto la proposizione principale è semplicemente senatus censuit il senato stabilì che cosa stabilì stabilì che gli uomini cedessero il passo lungo la via a vetturi a madre di coriolano e a volumnia la moglie volumnia che avevano rimosso coriolano dall'assedio della patria l'avienus pugna abstinevat tantum ostes a castel proibevat l'avieno si asteneva dalla battaglia tantum ricordatevi il significato che ho dato di tantum che nel mio dizionarietto nel lavoro che ho fatto di latino ci sono queste non ci sono tutte evidentemente ma tantum è evidente che venga spontaneo a tradurlo con tanto c'è anche tanto tanto può voler dire anche tanto ma tanto può voler dire anche solamente e in questo caso vuol dire solamente ostes non è soggetto di proibeva se non sarebbe scritto ostis poi è terza singolare il soggetto è sempre albieno ostacolava solamente i nemici dall'accampamento sostanzialmente proibiva ai nemici di entrare nell'accampamento alessander se pingi abappellet fingi alisippo tantum da voluit pingi e fingi sono due infiniti presenti passivi quindi alessandro volle devo partire dal verbo all'indicativo cos'è che volle se pingi se pingi abappelle siamo in infinitiva che lui fosse ritratto da apelle e un'altra infinitiva e fosse e fosse stessa conge uno a pittura l'altro invece alla scultura e fosse scolpito non va bene e fosse ritratto uno dipinto uno fosse dipinto e l'altro fosse ritratto dall'isippo questo vuol dire solamente quindi alessandro volle che volle solamente che lui fosse dipinto da apelle e ritratto dall'isippo abappelle e all'isippo sono due complementi da gente retti dai due passivi infiniti presenti pingi e fingi constat non lo mei un cum abotoviano regno pulsus es constat o inter non è sconstat vuol dire si sa che e quindi abbiamo un'infinitiva tolomeum venisse romam che tolomeo sia venuto a Roma cum pulsus es questo è un congiuntivo passivo composto che vuol dire essendo stato cacciato dal regno da ottaviano quindi abbiamo un pulsus 7 compito congiuntivo col passivo passivo composto corrisponde al gerundio composto naturalmente passivo anche in italiano essendo stato scacciato poi abottaviano è complemento da gente regno è di nuovo complemento di allontanamento allontanato dal regno e quindi può essere tradotto anche in ablativo altrimenti se uno si direbbe ma hai sbagliato un complemento di moto dal luogo si traduce con a ab ex de relativo qui c'è solo un relativo semplice perché è considerato non un complemento di moto dal luogo ma complemento di allontanamento esulet cuum cotermine ui eserce pepulisse patria obsidione libera verunt li esulite vani cum pepulisse vuol dire pello pe pello pello pelli pepuli pul pellere vuol dire scacciare avendo scacciato che cosa il presidio degli spartani eserce da roccaforte libera verunt liberarono che cosa? patria la patria obsidione dall'assedio anche questo è un complemento di separazione e allontanamento protagoras sofistes atenientium sium iussum urbe atque agro exterminatus est anche questo è un infinito quando c'è il participio passato usa aum più il verbo essere siamo sicuri, è come in italiano è sterminato, devo dire scacciare è stato scacciato poi, qui è meglio usare in italiano un passato remoto perché è un'azione passata che non dura più nel presente fu scacciato quindi il sofista protagora per ordine iussu atenientium per ordine gli ateniesi fu scacciato urbe dalla città e dai campi o dalla campagna anche qui urbe agro in ablativo semplice perché considerate complementi di allontanamento servius tullius tarquini iussu domi sue occisus est servio tullio occisus est siamo un momento nel perfetto e per questo essendo un composto abbiamo bisogno del verbo essere occisus est fu ucciso iussu tarquini per ordine di tarquinio dove domi sue a casa sua il genitivo locativo per casa ecco questi sono le versioni che le versioni dall'italiano in latino che poi io nel giro di una settimana le metto chiaramente sul mio sito si possono poi vedere però io mi fermo un momentino se qualcuno vuole fotografare il video se è interessato andiamo avanti dunque cosa facciamo oggi? ecco qui cosa facciamo i verbi deponenti cosa sono i verbi deponenti? voi dovete studiare una regola che vale per tutti uno non si può non può pensare di mettersi a studiare da capo tutte le coniugazioni sono dei verbi deponenti si chiamano che hanno solo la forma passiva facciamo subito un esempio ortor se io vado a cercare esortare sul vocabolario trovo ortor prima persona indicativo presente ortaris seconda persona indicativo presente ortatus sun perfetto ortari infinito se io un verbo me lo trovo in questa forma non nell'altra laudo laudo se laudavi laudatum laudare ma ortor ortari sottato sum ortari vuol dire che è un verbo deponente la forma attiva non ce l'ha ha solo la forma passiva ma attenzione forma passiva significato attivo quindi ortor non vuol dire sono esortato ma vuol dire io esorto quindi qui si prendono poi quattro verbi tipo verior vereris eccetera vereri della seconda coniugazione utor utelus sumuti della terza coniugazione e parzio 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 scusate parzio 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 partiri che vuol dire che vuol dire dividere non c'è nulla da studiare di nuovo se voi conoscete la coniugazione passiva delle quattro coniugazioni è uguale a questa soltanto che non potete andare a vedere utor non traduce io sono usato ma io uso parzio ora non vuol dire io sono diviso ma io divido hanno significato attivo io direi andate a vedere la mia lezione sulla forma passiva e anche qui anche per i tempi composti le stesse cose non cambia niente uguali alla forma passiva delle quattro coniugazioni soltanto che la traduzione cambia invece mi voglio fermare sull'imperativo l'imperativo è un vero e proprio trabocchetto perché perché se io trovo dal latino ortare mi viene più che istintivo dire questo qua è un infinito ortare esortare e no e no perché l'infinito è ortari no l'infinito passivo presente di laudor è laudari quindi ortari è l'infinito di esortare cos'è ortare? ortare ortamene è un imperativo esorta tu esortate voi verere veremini utelutimini partire partimini attenzione dunque a a questa formula are ere ere ire che sembrano apparentemente degli infiniti il futuro difficilmente viene utilizzato mentre invece c'è da valutare le forme infinite no cioè l'infinito participio gerundo gerundivo e supino c'è qualche cosa di nuovo da studiare qui? no c'è solo da ricordare una cosa che il verbo non ha il participio presente perché il participio presente è nella forma attiva e anche il participio futuro è nella forma attiva qui qui invece pur avendo solo la forma passiva dell'infinito nel participio del gerundio gerundivo abbiamo tutte le possibilità evidentemente l'infinito che noi abbiamo sia in forma attiva che in forma passiva è presente solo nella forma passiva quindi abbiamo nel presente passivo ortari come laudari poi laudatum s abbiamo ortatum s con valore attivo è ortaturum ortaturam ortaturum s che è un infinito futuro nel participio presente nel participio invece essendo forma forma passiva dovremmo avere soltanto il perfetto invece abbiamo anche il participio presente e il futuro che esorta che esortato che esorterà con tutte le regole andate a vedere anche a questo proposito il participio passato io lo ho indicato e poi lo ho indicato dopo tutta la relazione che si deve fare solo perché i participi passati dei verbi deponenti a volte hanno valore di participio presente gerundio voi se vi ricordate gerundio era una forma attiva gerundivo era una forma passiva no? e qui ne abbiamo tutte e due e questo gerundivo ha la forma passiva ma ha anche il significato passivo e per il supine ci sono tutte e due no? ci sono tutte e due ortatum a esortare ma c'è anche la forma passiva ortatum a essere esortato quindi le abbiamo tutte le forme i due supini i tre participi i tre infiniti il gerundio il gerundivo no? ecco non ci dovrebbe essere ortatum perché è forma attiva non ci dovrebbe essere il gerundio ortandi ortando perché non è forma passiva non ci dovrebbe essere ortans e ortaturus perché non è forma passiva e invece ci sono anche quelli ma non è nulla di nuovo sono coniugazioni né più né meno come quelle che abbiamo visto con laudo nelle loro forme attive e passive quindi da che cosa dovete fare particolare attenzione? al paradigma ortor ortaris ortatus sum ortari c'è un'espressione così questo è deponente se è deponente anche se ha la forma passiva il suo significato è attivo e purtroppo ci sono anche i semi deponenti non ce ne sono tanti ma ci sono vedete? anche questi però ecco perché dico che sui verbi è importantissimo il paradigma lo si vede dal paradigma che cosa capita in questi verbi audio da non confondere con audio 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 su zoom modal che vuol dire osare guardate che cosa succede guardate audio è normalissimo come monio mones anche l'infinito monere il problema sta nelle forme composte allora nelle forme composte si coniuga come un deponente ed evidentemente le forme composte hanno valore hanno forma passiva e significato attivo le forme semplici sono normalissime come qualsiasi altro verbo tuosi audes ma se io devo dire io osai non esiste la formativa devo mettere audes o su gaudi o gaudi o gaudi o scaviso su gaudere soli o sole soli o su un solere fido o fidis fiso su fidere e poi composti di fido confido o confidis confiso su un confidere di fido o di fidi di fido su un diffida lasciate perdere queste tre regole dunque cosa c'è adesso da fare? qui c'è poco da capire io penso che uno degli scogli maggiori ma queste le cose più difficili le ho individuate nel mio manuale nel mio manuale di latino la cosa più difficile secondo me in latino è quando ci troviamo di fronte a dei verbi che hanno una costruzione differente da quella dell'italiano ora qui le ho scritte poi evidentemente uno non può impararsene e conoscere le tute a memoria però dovrebbe almeno ricordare dire confido confido di fido gaudio c'è una costruzione un po' particolare guardate che ai miei tempi queste costruzioni mi dobbiamo sapere le tute a memoria perché si traduceva anche dall'italiano e latino e quindi se non si sapevano costruire vediamo che cosa intendo dire confido in te confido traduco fido confido va sempre bene in te dove in te in che cosa sarebbe un complemento di stato in luogo figurato verrebbe fuori in te e se è sbagliato perché fido e confido reggono il dativo è come se ci fosse scritto confido a te vedete ablativo se sono accompagnati da un nome di cosa confido nel vostro valore non dico fido in virtù telestra ma semplicemente virtù telestra quindi sarebbe da ricordarle queste cose qui perché confido in una proposizione facile dire fido tibi confido in te ma quando una regenza di questo genere si trova in una frase lunga tra quattro righe quel tibi uno lo traduce istintivamente a te per te non va a pensare che questo tibi sia invece c'è retto da confido e allora se non si ha questa idea si cade nell'errore poi ci diffido ed è la stessa cosa perché diffido di o dispero di regge sempre il dativo sia con i nomi di persona sia con i nomi di cosa diffido di te non traduco diffido tui che è il genitivo ma diffido tibi dispero della vittoria della vittoria adesso qui non si riesce bene a distinguere perché nella prima declinazione vittorie e sia genitivo che dativo ma se io dovessi dire dispero della tua salvezza della tua salvezza io devo tradurlo tue saluti al dativo perché non è genitivo diffido al reggio del dativo la stessa cosa vale per Gaudio godere di qualche cosa relegrarsi per qualche cosa regge l'ablativo questo è già abbastanza in sintonia perché potrebbe essere benissimo un complemento di causa godo a causa della vostra vittoria Gaudio vittoria la stessa cosa vale per conor conor mi accingo mi sforzo conor conari scontato sun conari regge l'accusativo se eseguite un sostantivo mi accingo ad una grande impresa ad una grande impresa se c'è tento la corrispondenza c'è tra italiano e latino tento che cosa complemento oggetto ma se invece uso mi accingo mi sforzo evidentemente non c'è corrispondenza bisogna ricordare che conor legge l'accusativo poi l'infinito semplice seguito da infinito ma questo è già più facile i barbari tentavano di passare attraverso la provincia barbari con avantur facile iter a potrebbe essere benissimo intesa come un'oggettiva quindi non è una cosa difficile gratulor anche qui regge il dativo sono tutti i verbi che reggono il dativo se voi andate a vedere nel mio manuale c'è l'elenco dei verbi che reggono il dativo mi congratulo con te io non dico tecum cum te tecum ma gratulor tibi recordor mi ricordo il de elaborativo si è accompagnato da un nome di persona mi ricordo di te de te recordor genitivo accusativo si è accompagnato da un nome di cosa mi ricordo dei tuoi delitti recordor fragizion un tuorum oppure fragizia tua qui io ho ben poco da spiegare bisognerebbe entrare in questo ma io penso che più importante di tutti perché questi verbi poi si dovrebbero vedere in un momento successivo quando si cominceranno a fare tutti i casi però insomma già adesso qualcosa sono importantissimi questi qua che reggono la vettiva uton, fluo, fungo, pozzio, levesco sono verbi che reggono il lativo a volte ci si trova di fronte a una formula a una desinenza che poi oltretutto non si riesce bene a capire se è lativo o lativo e non si riesce a tradurre vescere attenzione che questo non è un infinito come ho detto la prima è un imperativo mangia beh certo che io se ho vescere cibissani solamente queste tre parole mangia cibissani ma quando cibissani si trovi in un contesto di tre quattro righe va a far capire se non mi ricordo che vesco è un verbo grece liberativo cibissani vanno per sé non li riesco ad inserire nella frase si ricordi l'espressione potiri rerum da mettere nella lezione a rieto in padronese del potere e continuo ancora no? c'è misereon mereon bisogna conoscerli obliviscor eccetera 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 qui ho affrontato il complemento di origine beh il complemento di origine non c'è dubbio che tutti sanno che cos'è l'origine e la provenienza di una persona o di una cosa e come viene tradotto o l'ablativo semplice si indica alla famiglia la condizione di sorgere i genitori ad esempio vedete si l'era di nobile famiglia indica la famiglia quindi nobili genere nacque da padre libero anche qui è una è il nome di un genitore no? e quindi padre libero mercurio era nato da giove no? siamo di nuovo dentro la famiglia e quindi io ve mai l'ablativo quando si parla di antenati lontani no? i romani discendevano dagli antichi troiani no? Cesare si diceva discendesse del club da venere quindi una discendenza lontana era l'ablativo ex e l'ablativo sostanzialmente in tutti gli altri casi quindi condizione sociale genitori famiglia ablativo ab antenati lontani ablativo in tutti gli altri casi questo però è evidente che è una regola che ci serve per la traduzione dall'italiano in latino dall'atino in italiano il complemento di origine è abbastanza scontato quindi qui io ho incominciato a mettere dei verbi che bisognerebbe portare sulla rubrica questi sono tutti verbi deponenti qui non c'è il paradigma perché sono tutti della prima definizione admiro admirar 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 arbitrar arbitrar aspirar 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 comitrar comitar comitar conar è sempre la stessa cosa come quando si diceva laudo laudas laudavi laudato naudare qui invece il paradigma viene messo perché non è sempre così semplice adorior adortusum adoriri blandior blandir esperio esperitussum esperiri lario eccetera eccetera sarebbe potuto studiarli e poi quindi sul testo di grammatica bisogna studiare la coniuncazione deponente semideponente complemento di origine e l'eleggenza di alcuni verbi ricordatevi tra tutti quelli che ho detto sono importanti utor fruor fungor pozio e levescol che sono quelli che regano l'ablativo poi se andate a vedere nel mio manuale abbiamo la serie dei verbi che regano l'ablativo sul participio passato collegatevi a questo sito a questa lezione non sito a questa linea lezione per la proposizione consecutiva collegatevi a quest'altra lezione che tratta l'ut nelle sue varie possibilità l'ut con l'indicativo l'ut col congiuntivo e quindi il congiuntivo può essere finale può essere consecutiva può essere dichiarativa e infine abbiamo gli esercizi di questa lezione che sono questi qua spero di essere stato chiaro io cerco di essere succinto più che mai succinto più che mai anche perché una mia registrazione la si può sentire più volte la si può fermare e si può sentire spero di non aver detto delle sciocchezze o delle grosse stupidaggini la si può fermare e la si può risentire quindi non mi ripeto all'infinito però voi capite che abbiamo incominciato con i verbi non è sempre così semplice come si dice non è latino una lingua che possa essere così risolta nel giro di ipocrezioni chi vi racconta queste storie vi dice delle bugie come al solito perché si vuole avere subito il successo e dire guardate io come sono bravo ma in realtà allora ci rivedremo la prossima volta ci risentiremo la prossima lezione